Avevo fatto il turista per Roma e alla fine della giornata ero tanto stanco che avevo le scarpe piene di piedi. Quando sono arrivato a Fontana di Trevi mi sono chiesto, ma di tutti questi monumenti, alla fine, che cosa rimane? Rimane soltanto l'evoluzione che la civiltà che ha prodotto quei monumenti ha lasciato nelle coscienze di quelli che l'hanno vissuta.